Benvenuti sul canale. Benvenuti nell'anticipazione dell'emozionante episodio de La Promessa in programma per la prossima settimana. Siete pronti per scoprire i dettagli avvincenti che ci attendono? Allora, mettetevi comodi e preparatevi a immergervi in un'intensa avventura di emozioni e segreti. Cominciamo rivelando il cuore palpitante degli avvenimenti. Salvador, pronto a partire per la guerra in Africa, affronta un addio commosso e carico di significato. Un ultimo abbraccio a Maria, i loro sguardi carichi di promesse e rimpianti. Salvador, con la valigia e i sentimenti in mano, inizia la sua partenza. Maria, nel frattempo, vive a pieno l'intensità di questo addio. La tristezza si mescola alla speranza, mentre le consegna una parte dei suoi risparmi, insieme a quelli di Ana. Questo gesto è un segno di fiducia in Salvador e un modo per assicurarsi, che avrà tutto il necessario per affrontare il periodo di lontananza. Mentre si allontana da Maria, Salvador sorride, ma è ovvio che anche lui è attraversato dalle emozioni contrastanti. Maria, d'altra parte, cerca di consolare Ana, un'amica che condivide la stessa preoccupazione. Con parole gentili, Maria cerca di sollevarle il morale, cercando di incanalare la tristezza, in un senso di speranza e di attesa per il loro prossimo incontro. Tuttavia, la curiosità di Maria è inarrestabile. Spinta da un istinto, decide di indagare ulteriormente, e trova i diari di Ana. Rimanendo sorpresa dalla scoperta dei diari, Maria legge le parole, che rivelano l'oscura vendetta che Ana progetta contro il barone. Questa scoperta mette a nudo un lato oscuro di Ana che Maria non si aspettava. La sua espressione è un misto di sconcerto e preoccupazione, mentre comprende che queste informazioni potrebbero avere conseguenze imprevedibili. In un momento di audacia, Maria prende una decisione, che cambierà il corso degli eventi. Decide di agire, per il bene comune e sedana, immobilizzandola sul letto. Questo atto estremo è una misura preventiva, un tentativo di evitare che Ana, compia gesti impulsivi che potrebbero avere ripercussioni negative, non solo su di lei, ma su tutti. Nel frattempo, la sontuosa dimora dei Marchesi è animata da un'altra notizia sorprendente. Leo non riceve la gioiosa notizia che le è stata offerta l'opportunità di studiare a Parigi. Questo nuovo capitolo offre la possibilità di una vita diversa e di crescita personale. Tuttavia, le sfide non mancano, poiché le viene chiesto di ottenere il permesso da suo fratello Manuel. Questo aggiunge un elemento di incertezza al suo futuro, e la sua espressione. È un misto di felicità e di preoccupazione. Nel frattempo, Manuel rivive momenti significativi trascorsi con Ana. I loro sorrisi, le risate condivise e le avventure in aereo, riempiono la sua mente. Questi ricordi sono contrastati dalla crescente consapevolezza dell'importanza delle scelte future. La determinazione di Ana di vendicarsi del barone, continua a bruciare nella sua mente, aggiungendo ulteriori strati di complessità, alle sue emozioni. Ma l'oscurità della notte, svela anche altre decisioni che condurranno a un crescendo di tensione. Nel mezzo dell'hangar, Manuel, carico di emozioni e delusione, trova il suo aereo. L'assenza di Ana nel momento cruciale, scatena una serie di sentimenti contrastanti. Senza esitazione, Manuel inizia a rimuovere i telli dall'aereo, una decisione che diventa un simbolo della sua frustrazione e dell'incertezza che lo circonda. Nel buio della notte, la villa si prepara a vivere un momento che cambierà tutto. Manuel, con cuore spezzato ma risoluto, parte con il suo aereo. L'oscurità della notte diventa il complice di una decisione che porterà angoscia e dolore nel cuore della villa. L'attesa per l'episodio successivo è palpabile, poiché il destino dei personaggi continua a intrecciarsi in modi imprevedibili. Restate sintonizzati con il nostro canale, per scoprire come si evolveranno questi intrighi e segreti. Come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le anticipazioni. Ciao carissime amiche, spero, stiate trascorrendo una giornata splendida. Voglio condividere qualcosa di importante con voi. Sapete quanto mi appassioni? Creare contenuti per il nostro canale, e condividere le ultime novità, delle nostre telenoveli preferite, come La Promessa, Terra Amara, My Home, May Destiny, Beautiful. Vorrei chiedervi, un piccolo favore, potreste condividere questo video, con le vostre amiche e conoscenti? Voglio che la nostra community cresca, e diventi sempre più grande, perché insieme, possiamo rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Mi piacerebbe, anche sentire i vostri pensieri sul canale. Cosa ne pensate? C'è qualcosa che vorreste che io aggiungessi, o cambiasse? Siete felici dei contenuti che sto creando, per voi? Voglio che questo spazio, sia davvero speciale, per tutte noi, quindi ogni tuo feedback conta. Non dimenticate di iscrivervi, se ancora non lo avete fatto, e di lasciare un bel, mi piace, ad ogni video che guardate. Questo mi aiuterà, a capire, quanto apprezzate il mio lavoro. Grazie, per essere parte di questa avventura, e per il supporto che mi date, ogni giorno. Vi abbraccio forte, e aspetto con gioia, i vostri commenti.